Buonasera, grazie di essere venuti, so che ho un ritardo micidiale e me ne scuso tantissimo, ho creato un sacco di casino, lo so, ma questo casino che ho combinato a Gimmanigio centra con il titolo di questo speech che faremo adesso, che si intitola grossomodo perdersi e ritrovarsi di due punti un anno dopo, e tutto parte dal fatto che io un anno fa dovevo venire qui a parlare il 4 dicembre all'auditorium, anzi proprio me l'avevano venduta come inaugurerai l'auditorium, quindi è una cosa importante e mi sono preparato per bene, mi sono messo su un treno e da quel treno sono disceso in un'altra vita proprio, ma 4-5 ore dopo, di ritardo, più il viaggio, sono finito anche sul giornale il giorno dopo, c'era scritto proprio, perché poi c'era qualche VIP su sto treno, cioè c'è rimasto impegolato anche qualche ministro, non so, insomma un caso di ritardo di quelli storici, tant'è che qui molto gentili prima hanno ritardato, poi hanno rinviato, poi hanno spostato la sala, poi mi ha salutato e avete chiuso tranquillamente più libri, più libri e io non sono mai arrivato, ci sono andato a Roma, sono andato a dormire, chiusa lì, però mi è rimasta qua, anche perché mi ero preparato e ho subito detto, ci siamo detti, beh, il prossimo anno rifacciamo tra le quale. Questa volta, quindi, tutto bello contento di tornare, mi dicono che purtroppo il tema è cambiato, per cui tutto quello che mi ero preparato non serviva più niente, però ho pensato, no, invece c'è un senso, perché comunque, perché comunque cosa è successo, è che dopo quel famoso 4 dicembre, era anche una data abbastanza speciale per me, perché era, nella mia intenzione, era l'ultima volta che parlavo in pubblico prima di entrare in un mio tunnel medico che dovevo affrontare e quindi era anche un modo per salutare un po' questo tipo di situazione e infatti poi sono entrato in questo tunnel dove l'espressione perdersi è la più adatta, è quella che può definire più da vicino quello che mi è successo, è ritrovarsi anche la seconda parte del tunnel, la prima parte ti smarisci, la seconda parte ti ritrovi sostanzialmente. Ho uscito da questo lungo tunnel, spero migliore, comunque sano, mi si riaffaccia più liberi, più liberi come il giorno della marmotta, cioè di nuovo, track. E allora ho pensato, beh, più perdersi e più ritrovarsi di come ho fatto io non ce n'è e quindi per me ha proprio un significato portare la stesso speech che volevo portare prima, per dire che mi sono ritrovato e lo porto qua e faccio proprio quello lì e quindi con grande gioia ripiglio questi vecchi appunti, ristudio un attimo, mi metto su un treno e di nuovo il treno rimane fermo in mezzo alla campagna, come l'anno scorso, solo che quest'anno ha fatto un'ora e cinquanta di ritardo invece che quattro, ma c'è un niente, c'è un karma indiavolato su sta roba. Comunque per me, insomma, alla fine io, figuriamoci, mi spiace tanto per tutti quelli che arrivano alle cinque, prendono la babysitter e poi zero, sette e un quarto qui dentro. Ma ce la godiamo lo stesso, mi scuso, ma non è tanto colpa mia se non fosse che c'ho un karma. Comunque, un anno fa il tema era quello della libertà e dato che mi ero impegnato seriamente, mi ero chiesto seriamente se effettivamente, al di là di quello che è bello dire, i libri avessero avuto per me un significato di libertà, cioè se a parte quello che è bello dire, effettivamente nella mia vita i libri avevano rappresentato un'esperienza di libertà. E non riuscivo a trovare nessuno perché, anzi, in molti casi piuttosto al contrario, una galera, soprattutto perché li scrive, i libri sono una specie di galera. Poi mi è venuto in mente un me stesso di molto tempo fa e lì ho capito che il adesso c'era e di quello allora e adesso ho deciso di parlare. Quando io ero piuttosto piccolo, diciamo, insomma, da quando ho cominciato a ragionare, 5-6 anni, fino a 13-14 anni, quando ho iniziato a leggere libri, un po' per caso, io comunque, adesso mi spiace fare questo tipo di confessione intima biografica qua, però serve per capire il tema, ok? Stavo al mondo in un modo un po' strano, cioè abbastanza a disagio, non è che proprio stavo, non era mai un mondo che era su misura per me. Alle volte era troppo difficile, cioè palesemente fuori della mia portata, non so, i miei compagni di scuola che erano alti il doppio, non so, quelle cose lì, e alle volte era infinitamente piccolo, cioè deludente, noioso da bestia, gran parte della mia esperienza quotidiana. Quindi vivevo simultaneamente questo fatto di essere molto più piccolo del mondo in cui ero chiamato a vivere, è molto più grande del mondo in cui ero chiamato a vivere. Era come stare in una stanza che sempre o ti stringe o ti, no? E questo mi ha accompagnato per moltissimo tempo, non escludo che ancora adesso mi accompagni, questa impressione di essere molto meglio di metà delle persone, voi a destra, è molto peggio di quella a sinistra, e quindi inutile, non ha posto da nessuna parte. E comunque stavo un po' su questo pianeta, un po' da... da clandestino, ecco. Moltissimi bambini lo sono, però io me lo posso ricordare distintamente. Anche un po' ostaggio di questo posto in cui non mi trovavo bene, però che dovevo fare? Il mattino mi svegliavo, stavo lì, ero iscritto a quel club, che vuoi fare? Devi comunque andare. E da questa situazione qua, diciamo, non gradevolissima, mi hanno portato via due o tre cose nella vita e una, devo ammettere, sono i libri. Quando ho iniziato a leggerli? Prima non sapevo che esistevano, prima non me li leggevano, non so. Poi a un certo punto, un po' per caso, 12, 13, 14 anni, infilo questa strada e questa strada effettivamente non dico che mi abbia portato via da quel disagio, però mi ha dato molto, molte volte nella vita, una specie di linimento, anestesia, liberazione da quel tipo di disagio lì. E adesso vorrei riuscire a spiegarvi, perché ho cercato di spiegarlo prima a me stesso, in che senso mi liberava da tutto questo? Cioè proprio tecnicamente, praticamente, perché il leggere mi faceva, mi era medicina, mi era allinimento, cioè cos'è che faceva? E mi è venuto in mente di fissare tre cose che ho molto chiare, me le ricordo benissimo e anche queste durano tuttora, in un certo senso. E secondo me sono le tre esperienze, le tre cose, i tre fatti che accadono nella maggior parte dei lettori, nella maggior parte di quelli che leggono i libri, ecco se li chiedi perché ti piace, secondo me sotto sotto ci sono queste tre cose qua. Cercherò di spiegarveli con l'aiuto di tre immagini, che per questione di snobberia ed eleganza sono tutte tre immagini giapponesi, non chiedetemi perché, ma quando ho preparato questo spiccio ho detto ma come sarebbe elegante usare solo immagini giapponesi, fatto. tre immagini per spiegare tre. Il primo viene da, e qui l'appunto lo devo leggere, viene da un libro che mi ha incantato, ne ho anche parlato una volta in televisione, è un libro giapponese del Cinquecento che si intitola, la pronuncia è un po' così, Mokuroku, sapete il giapponese è privo di accenti quindi dovrei dire Mokuroku così. Mokuroku, Mokuroku è un testo a metà tra il mistico sapienziale e bassamente artigianale che raccoglie tutte le regole di un esercizio e di una prassi ben precisa che è il tiro con l'arco. Ai tempi si parla a cavallo tra il 1400 e il 1500 in Giappone gli arcieri facevano parte dell'esercito ed era uno dei sistemi per vincere in battaglia. Quindi poteva sembrare un libro di tipo militare ma in realtà quel tipo di guerriero, cioè quello che sceglieva il tiro con l'arco, quel tipo di armali, aveva una sua spiritualità che loro hanno indagato a lungo e hanno poi, come fanno sempre i giapponesi, come hanno sempre fatto in tutti i singoli Tao, in tutte le singole vie, quello del tè, la cerimonia del tè oppure la calligrafia eccetera, a un certo punto un grande maestro ha detto beh c'è un modo perfetto di tirare con l'arco e si forma su queste e poi identificò 150 regole, alcune minuscole, però poi c'è come di tenere il mignolo, lo sguardo, 150. Poi un suo allievo lavorò durissimamente e 40-50 anni dopo scrisse una versione di questo manuale in cui le 150 regole erano ridotte a 60 in uno sforzo di sintesi estremo. Man mano che sintetizzavano da tutta una prassi a 150 regole a 150 regole a 60, naturalmente questo gesto assumeva delle dimensioni quasi mistiche e di fatti tirare con l'arco non è solo né principalmente un modo di ammazzare un nemico ma è un modo per trovare tu un bilanciamento. Quindi era un manuale guerriero, però un manuale guerriero strano in cui una delle cose che dice il grandissimo maestro è non pensare dove va la freccia il tiro è dentro di te. Diceva che sono in battaglia, ma la freccia magari un pesterino ce lo faccio perché se no se non ammazza lui lui ammazza me. Eppure niente non resistevano e quindi costruivano questa specie di grandissima disciplina. La serie di queste regole è sublime e io ho passato molto tempo a sfogliare questo libro sognando perché c'è la follia giapponese, è molto lontana dal nostro modo di vedere le cose. Noi pensiamo che la bellezza di un gesto, il senso di un gesto, l'altezza di un gesto si dia nella prassi che ogni volta lo migliora, lo interpreta, lo sviluppa. Pensate a Beethoven la prima sinfonia è più brutta della nona, brutta no, ma insomma c'è un lavoro, uno sviluppo, cioè appena tu ti applichi qualcosa di ricco, che ha senso, l'istinto di noi occidentali è quello di svilupparlo, cioè di farlo fiorire. Invece il giapponese al contrario, quando si applica qualcosa che per lui ha un altissimo senso, il suo istinto è inchiodarlo a una perfezione che poi tu devi ripetere. Non è che puoi dire ma lo faccio a modo mio, a modo interessante. No, devi fare esattamente quello che il grande maestro ha decifrato come la perfezione di quel gesto. In questo caso i 150 e poi 60 regole sono niente, ti portano a una sola possibilità di tirare una freccia, quindi ne sono 4 o 5. E queste regole sono sublimi, molto poetiche anche. Non vi starò a tediare con tutte, ma ne becco una che ci porta poi al discorso dei libri. Naturalmente la prima cosa, prima, una delle cose che devi fare è mettere bene i piedi per terra, ok? Cioè devi tirare e quindi metti i piedi per terra. Però naturalmente ci sono mille modi di mettere i piedi per terra, ma ce n'è uno solo che è esatto. e qui in questa fantastica cartina diciamo così giapponese dei gesti che puoi fare, loro decretarono che c'era una distanza precisissima di 91,3 centimetri tra un piede e l'altro, cioè non è che potevi fare così o così, no. E soprattutto i due piedi dovevano essere messi, adesso dovrei avere tre mani ma ci provo, dovevano essere messi secondo un angolo che è molto variabile, no? E questo angolo invece decretarono qual era l'angolo giusto e l'angolo giusto per farvi capire la poesia di tutto questo era, loro lo definivano otto stecche, così. Che cosa sono? Esisteva un ventaglio, un'altra arte, un'altra delle loro vie, un'altra età, esisteva un ventaglio che aveva dodici stecche, cioè quando lo apri uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, lo apri per dodici, dodici come i segni dello zodiaco naturalmente, ok? Allora tu dovevi aprire il tuo ventaglio e fermarti all'ottava stecca, per cui non lo aprivi completamente, che sarebbe 180 gradi, ma lo aprivi a otto stecche, quindi zac. Non c'erano centimetri, non c'era un grado di angolo, c'era un sistema di riferimento rispetto al ventaglio, ventaglio da guerra, perché ce n'erano di due tipi, di questo era quello da guerra. E quindi la somma, la somma di questa distanza dei piedi, dell'angolazione, dell'angolazione del gomito che tira e del braccio che è, disegna, adesso immaginatevelo, disegna come fosse un, cioè c'è un perimetro questa figura, ok? Cioè sulla base sei largo tanto, poi sei alto tanto, in alto sei largo come sei sotto e a sinistra uguale. Tutto questo naturalmente doveva essere altamente armonico e infatti nella loro descrizione corrisponde a un quadrato. Se poi tu calcoli da un punto di vista tridimensionale, quello che loro riuscirono a definire fu una sorta di cubo in cui tu stai dentro e devi star dentro con armonia e perfezione. E quello era il cubo, aveva un nome giapponese, e questo cubo, dicevano, è la casa abitata dal tiratore. E poi davano questa definizione, è il luogo in cui il tiratore può tirare senza che nulla esterno a lui lo possa disturbare e nella più completa libertà. Se invece vai un po' più dietro, esci dal cubo, già senti quello di Mario, cioè ti disturba, no? Mentre tu sei chiuso, no? E se voi immaginate il gesto del tiratore e se lo interpretate con un equilibrio pazzesco, lo sentite il cubo che è intorno a lui, no? E quindi questo spazio di protezione dal mondo e di libertà totale, cioè lì dentro c'è solo tu e tu sei Dio e non entra nient'altro, no? Che è la composizione di una posizione, cioè è difficile, però quando riesci, c'è questo cubo che è intorno a te. Non trovo una definizione più puntuale del cubo che ancora oggi mi circonda quando io leggo. Cioè appena io leggo, e soprattutto da piccolo mi succedeva, niente, senza mettere i piedi così, posso leggere sdraiato sulla tazza del cesso, non importa, ma immediatamente io sento il cubo. E il cubo allora era una delle cose che mi difendeva, perché se tu hai un mondo per cui non sei adatto, che di solito si muove in continuazione, fa casino, eccetera, no? Tu o lo affronti e lo vinci, cosa che ho fatto poi da più grande, ma se no tu stai sempre a cercare un posto dove proteggerti, cioè un posto dove star tranquillo, no? Dove ce l'hai un posto dove star tranquillo, cioè ti chiudi in camera, sì vabbè, cioè dove vai a camminare in montagna, cioè dov'è il posto, no? E il libro è nulla, però io ho questo gesto qui di aprire un libro e sentire proprio, toc, io sento il rumore del cubo proprio, zon, zon. Quindi la prima libertà era di trovare una libertà come il tiratore secondo loro trovava la sua libertà solo se chiuso nel cubo, per me era uguale. Io trovavo la mia libertà finalmente da questa ossessione, da questa pressione del mondo, la trovavo aprendo questi libri. Trovavo lo spazio in cui potevo esistere senza che nulla si intromettesse nel mio essere e respirando una libertà che nel mondo non riuscivo a respirare. Prima. la seconda, c'è un libro di Kavabata che io ho amato moltissimo, che si intitola, adesso in italiano è tradotto in diversi modi, però diciamo che La casa delle belle addormentate è il titolo più usato. Quanti di voi l'hanno letto? Non è un esame? Eh, vedete. Perché è un grande classico, è considerato uno dei racconti erotici più belli della letteratura mondiale. Ha avuto questo omaggio altissimo e io trovo delizioso del fatto che Garcia Marquez, ormai vecchio e sicuramente un po' stanco, l'ultimo libro che ha scritto fece un remake di questa storia giapponese, di questa storia di Kavabata, in salsa colombiana, che già se ci sono proprio due posti nel mondo che tu metti agli estremi, c'è Colombia e Giappone, ma in tutto, cioè nei corpi, l'erotismo, l'idea di destino, tutto. E quindi questa idea che lui abbia preso, questa storia giapponese, e ha detto, beh, la scrivo io in salsa caribica e il titolo è, ricordatemi, la memoria delle mie puttane tristi, così? Memoria o storia? Memoria. Memorie, forse. Memorie delle mie puttane tristi. Ehm... E la storia invece è molto giapponese, ed è questa. Esiste un... una specie di bordello, chiamiamolo, una casa chiusa, molto particolare, in cui vanno anziani, maschi anziani, per lo più ormai impotenti, nella stragrande maggioranza, e pagano. E quello per cui pagano è la seguente situazione. Entrano in una stanza e in un tatami, in un letto, c'è che dorme una ragazza molto giovane e vergine, nuda. I vecchi si infilano nel letto, non possono toccare, vedi che è molto giapponese, non è minimamente colombiano, perché i colombiani già si toccherebbero prima di entrare... quindi... e stanno nella luce di questa bellezza, che nella vita normale li è naturalmente vietata, cioè non la possono più raggiungere, e... a un certo quando sono sazi di luce e di bellezza, prendono una... una pastiglia, un sonnifero e si addormentano. E la mattina, quando si svegliano, la ragazza non c'è più. Questo è, diciamo, la tipologia del bordello, e poi la storia è quella di un uomo che, anziano ma non così anziano, e particolare non trascurabile, non impotente, ma ancora in grado di fare tutto quello che si può fare, ma, attirato da un amico, dice, ma sì, ma andiamo a vedere questa cosa. E allora va, ecco. Va e si trova in questa situazione. Entra in questa stanza, nel letto c'è questa ragazza bambina, ragazza giovanissima, bellissima, vergine, questo è anche molto giapponese, mentale, no? Così? E poi si infila e... e cosa fa? No? E lì proprio è cavabata, fantastico. E fa... adesso non... leggetelo però... però ad esempio una cosa che gli succede, che trovo bellissima, è che lui vedendo questa roba, cioè non la tocca, non fa nulla, ma si ricorda dei corpi giovani che lui ha toccato in vita sua e vissuto in vita sua. Allora gli incominciano a partire i ricordi e lui in questo letto semplicemente ritira su una storia di una con cui era stato, no? Così... e quando è sazio dei ricordi, prende la... prende la... la pillola, tocca, casca giù adormentato, la mattina si sveglia, non c'è più nessuno nel letto. Bomp. Naturalmente voi mi direte la classica storia erotica maschilista, cioè l'erotismo al maschile, eccetera. Sì e no, perché... Mettetevi invece nel... nei panni, non panni della ragazza giovane, ok? C'è anche un erotismo alla rovescia di tutto questo. Cioè il fatto di sapere che tu farai questo, perderai conoscenza e sarai una forma e un uomo che... che non può più desiderare, eh? Entrerà nella tua luce, tu non gli parlerai mai, non lo vedrai mai, a un certo punto ti sveglierai, lo guarderai per un attimo e te ne andrai, ok? Insomma è una storia piuttosto complessa da un punto di vista erotico, è piuttosto ricca, ok? Che poi c'è un finale particolare, ma sapete che Cavabatta i finali non... non gli importava molto, non so se avete notato che i finali dei racconti di Cavabatta ad esempio sono... sembra che si sia stufato e ha posato lì, fine. Perché non hanno quest'idea occidentale che una storia è finalizzata ad avere poi in uno scioglimento finale il suo significato, come Moby Dick, scontro finale, poi... no, i giapponesi non... cioè il finale è una cosa piuttosto volgare, cioè una volta che tu hai tracciato come fosse un... no? Un paesaggio, così non è che se tu fai un paesaggio poi dici come va a finire? No, paesaggio... e loro quando raccontano per lo più hanno questa estetica qua. Per cui anche Cavabatta in questo era... e qui c'è però una specie di finale, ma non ve lo dico, ma insomma comunque la storia poi avviene. Questa è la situazione che poi prese anche García Márquez, che poi lo sviluppò in maniera completamente diversa. Ma insomma, perché la cito qua? Perché un'altra delle cose che i libri mi diedero quando ero piccolo era che io potevo guardare la gente senza che la gente guardasse a me. Cioè era una forma di buoierismo il libro. Cioè nella vita normale la gente poi parlava, si girava, ti toccava, ti chiedeva, no? Tu non potevi guardarla, avvicinarti. Invece lì quando io ho aperto i primi libri mi sono accorto che lo scrittore mi portava, cioè diceva, e lui scese per strada, così attraverso Londra con lui. Io leggevo molto Cronin quando ero piccolo. Attraversavo Londra con lui, no? E io potevo attraversare Londra con lui senza... Cioè senza che lui mi rompesse le pale, senza dover dire ma perché sei qui? Cioè lui non mi vedeva, io... Ma questo non bastava, poi c'era, non so, poi gli prese un forte dolore alla schiena, no? E allora si grattò la schiena. Io proprio andavo vicinissimo, no? Le ditta, le unghie che lasciavano tracce. Io proprio sempre più vicino, senza che nessuno mi vedesse, senza dover pagare un biglietto. Cioè era proprio, no? E non vi dico quando poi, come succede nella letteratura, lo scrittore partiva e diceva, in quel momento pensò che... Cioè entrava nella testa, dentro la testa. Che sapete, poi nella vita, pensate quanta fatica uno fa per arrivare al momento di dire ma tu cosa pensi di questa faccenda, no? E l'altro poi, dipende ancora che dica la verità. Però, quanto strada devi fare per poi sapere quello lì cosa pensa? E io mi aggiravo per il mondo chiedendomi cosa pensavano tutti. Mia mamma, mio papà, i miei compagni, cioè tu per strada. Cioè ma chissà cosa ha nella mente quello lì? Eh, oh, aprivo sti libri e come questi anziani, anche con la stessa impotenza, nel senso che poi era una realtà su cui mica potevo intervenire. Cioè non è che poi potevo dire a Madame Bovarino, ma basta però Emma, guarda che così ti rovini. Cioè non potevo cambiare nulla, non potevo toccare, no? E in questo c'era anche una specie di sicurezza, cioè non potevo essere mai avvelenato da niente. Perché alla fine leggere e entrare molto dentro la realtà, ma in un modo bastardo, perché non ti cuccano, non ti vedono, non la paghi, non ti puoi ammalare, non ti puoi... Cioè lo trovavo fantastico, perché la vita al contrario, invece ti ammali, fa casino, poi arrivi tardi, poi vorresti stare ancora mezz'ora, vorresti ad esempio anche solo smetterla lì. Adesso io se mi alzo e me ne vado, non va bene, a parte che sono già arrivato molto in ritardo, ma proprio non è bello se io adesso... Ma invece il libro, tuc! Stai proprio nel bel mezzo di quello là, nella tempesta, Poi, giorno dopo, era fantastico. E c'era proprio questa cosa un po' erotica di poter guardare. Magari poco poco toccare, perché alcuni scrittori ti lasciano addosso un po' questa sensazione che hai toccato. Pochi, eh? Non so, Selin è uno di quelli che tu quando viaggi con lui, lui sta in Africa, fa un caldo cane, e tu leggi e a un certo punto incominci proprio a toglierti il maglione, perché riesci a fare sta roba, ma non è di molti. E lì un po' ti viene addosso, no? Però ti piace, non è male, perché comunque in ogni caso anche lì chiudi, ciao, Africa. Per cui lo puoi sopportare. Però insomma, quando ero ragazzino, questo mi dava immenso linimento. Perché io volevo il mondo, volevo sapere la gente cosa aveva in testa, volevo vedere i corpi, volevo sentire cosa si dicevano, al ristorante, quelli del tavolo vicino, sempre io sono desiderato sapere cosa si dicono. Meno io con quello che sono, più quello lì che mi interessa. Ma non puoi, oppure vai là, ma smettono. E invece i libri stai a sentire, non ti vedono, loro continuano, si dicono delle cose pazzesche. E tu, hai, uno, due, tre, tutte le sere, tutte... Eh, mi piaceva molto. Poi nel tempo ho capito che era il caso invece di toccare la gente, ammalarsi e sentire, e l'ho fatto. Ma comunque, ancora oggi, in cui appunto mi riesco a incrociare meglio con l'umanità, ma resta il fatto che a me quella passione è rimasta. E quindi mi infilo come un vecchietto in questi letti in cui delle ragazze pazzesche dormono e... Adesso poi lo leggerete, vi consiglio. È fantastico perché poi a un certo punto succede, non so, dopo un'ora che lui è lì, non la guarda. Poi sono giapponesi, quindi cosa succede? Sfiorano ma non toccano, no? Oppure si avvicinano, un po' così, ma non toccano. E a un certo punto questa chi fa... Cioè per lui, no? Perché si è girata, no? Così, allora... Poi naturalmente non resistono completamente, quindi a un certo punto, non so, toccano i capelli, ma con il cuore che va mille, no? E in questo c'è ovviamente questo, diciamo, questa grande passione per quello che hai perduto. E io da piccolo in qualche modo l'avevo già perduto prima di averlo, diciamo, tutto questo, e quindi mi piaceva guardare... Ma non ero un ragazzino orrendo, eh? Cioè, da fuori non si vedeva un granché. Cioè, se voi chiedevate al mio maestro dell'elementare vi dicevano bravissimo ragazzo. Cioè, non... Mettevo su una roba per cui la gente non capiva più di tanto, però, insomma, quella era la realtà. Un'altra coincidenza con questa immagine giapponese è che loro poi prendono una pastiglia e si addormentano. Quindi l'ultima cosa che fanno prima di addormentarsi è questa di guardare questi corsi. In effetti, ad esempio, devo ammettere che nella mia vita io credo di avere spento la luce senza aver letto, ma non so, tipo, venti volte. Ho in mente bene quelle rarissime persone che sono riuscite a farmi fare questo, ma se no io anche nelle situazioni più incredibili, con grande scandalo e divertimento e ironia delle persone che ho vicino, però, niente, poi io prendo un libro e leggo, ma nelle situazioni più disastrose, proprio. Se non ho un libro, topolino, text, ma comunque qualcosa io leggo, cioè proprio non c'è verso. Perché per entrare, no? Che l'ultima cosa che fai prima di entrare nel sonno è quella lì. A volte leggo una pagina, mezza pagina, insomma è una roba e piglio la pastiglia e vado giù. Ma l'ultima cosa che ho fatto è sempre questo wireismo, come riposarmi di tutta la giornata che ho vissuto, c'è questo, quindi anche in questo dettaglio c'è una certa parentela. Terzo. C'è questo artista giapponese che conosciamo tutti che si chiama Oksai, scritto Oksai, ok? E' quello della grande onda, avete presente? Ok. Siamo nell'Ottocento, lui faceva queste stampe su legno che sicuramente avete visto. Era un tipo molto particolare, un genio totale proprio, personaggio proprio mitico, ok? Era un maestro anche lui c'era un tratto mistico pazzesco, era anche un tipo pazzo, cioè non non cioè sorprendente, ecco, non era quel grande artista, era veramente uno un po' pazzo. Facevano un episodio che mi ricordo che mi è rimasto in mente perché ho detto guarda questo che percorsi mentali facevano delle gare in quest'arte giapponese del dipinto non so neanche insomma disegno velocissimo facevano delle gare davano un tema e questi si dovevano in un attimo su questi grandi fuori di carta e poi premiavano quello più bravo e lui una volta andò lui vinceva sempre andò una volta e il tema era foglie d'acero in autunno che sono questi temi giapponesi ovviamente non il cavaliere foglie d'acero e tutti gli artisti arrivano e incominciano tutti con loro e lui arrivava che era un strano tipo rozzo così ed ecco quello che fece sgozzò un animale che non è detto che è un animale sgozzò un animale poi prese un gallo intinse le zampe del gallo nel sangue dell'animale prese il gallo e lo buttò sul foglio il gallo se n'è andato risultato foglie d'acero rosse presentato vinto un pazzo ma un pazzo in un bel modo e lui è noto per tantissime cose ma forse in particolare per questa queste due raccolte che lui ha fatto che si intitolano 36 o 100 sono due raccolte visioni del monte Fuji la stessa l'onda si chiama l'onda di Kanagawa si la stessa onda che voi ricordate di Okusai quella lì grande quella fa parte di una di queste due raccolte di quella di 36 erano raccolte in cui in ogni tavola che lui faceva che erano tavole che descrivivano la vita dei giapponesi i cacciatori i pescatori l'inverno la tormenta così però in ciascuna di queste tavole era presente il monte Fuji dopodiché ci sono alcune che sono proprio gente che sale sul monte Fuji ci sono altre che lo vedi bello grosso ma delle altre devi andarlo a cercare e poi lo vedi piccolissimo tipo questo qui della grande della grande onda se voi guardate bene in fondo c'è piccolo piccolo c'è il Fuji quindi fa parte di questa raccolta inutile dirvi che il Fuji per i giapponesi non è una semplice montagna non è il cervino cioè è una divinità diciamo ok quindi per lui organizzare tutte queste visioni della vita degli umani intorno comunque al profilo anche solo abbozzato anche solo piccolissimo di questa montagna era come dare all'esistenza la vita una dimensione verticale la divinità come collocare l'esperienza dell'umano in una prospettiva più alta quindi non era semplicemente un'ossessione sua e infatti lui non fu l'unico che fece queste raccolte con visione vedute del monte Fuji però le sue sono le più famose piccolino enorme sotto la neve oppure tra le nubi oppure sotto la pioggia sempre lui c'era cioè che ti rigira sempre lui c'era con la sua sagoma inconfondibile che voi conoscete e guardare queste stampe è un'esperienza perché perché tu continui a girare sono tutte bellissime mi può piacere o meno però comunque c'è un fascino tutto particolare per noi occidentali sono un po' ti mettono un po' in confusione perché hanno due o tre caratteristiche a cui noi non siamo abituati cioè se voi guardate queste stampe pensate quasi sempre a Dio che bella però c'è qualcosa che proprio non vi quadra ed è qualcosa di molto grande vi faccio due esempi i giapponesi non fanno le ombre noi la pittura occidentale nasce proprio la pittura occidentale nasce proprio dall'ombra e dalla luce cioè il colore è tutto ombra luce pensate le pieghe del manto della madonna è tutto luce niente noi siamo così invece per loro la luce non è quella cosa che è per noi e per cui i corpi gli oggetti non lasciano ombra e se voi chiedete a loro ma come mai cioè non è poi così difficile fare due ombre cioè non sarà un problema tecnico e la risposta è molto giapponese cioè la risposta è sì ma le ombre sono qualcosa che corrompe la bellezza cioè sono un incidente l'ombra è un incidente se tu pensi un bellissimo corpo o un bellissimo oggetto nella luce il fatto che poi getti dell'ombra no cioè se sei un giapponese che devi pulire tutto compreso il bagno tutto pulisci la prima cosa che fai è pulisci dalle ombre perché perché guastare non la bellezza e quindi loro non le fanno non gli interessa così come non ce ne rendiamo conto subito ma ma in realtà con una parte del nostro cervello ce ne rendiamo conto ben presto come animali ce ne rendiamo conto non c'è una sola stampa giapponese che abbia una prospettiva cioè non è applicata la prospettiva un altro dei capisaldi della pittura occidentale ci abbiamo messo un po' a capire come funzionava la prospettiva ma quando l'abbiamo fatta e beh tridimensionalità ah no cioè prima la facciamo un po' sbagliata cioè con le righe parallele no giotto per dire no cioè però già come poi quando ho capito la regola geometrica vedevi delle piazze che fino a oh niente cioè se loro fanno una casa loro non non c'è prospettiva cioè proprio non e Oksai non usa la prospettiva mai mai e io più volte ho pensato che questo fosse una forma di stupidità dei giapponesi perché cioè non ci sono arrivati e quindi oh una volta incontro due grandi studiosi di Oksai e quindi avevo anche un po' bevuto e dico eh sta cosa è della prospettiva però come me la spiegate non sai l'occidentale ma come me la spiegate che che oh questi mi hanno mi hanno mi hanno mi hanno seccato proprio mi hanno fatto secco perché mi hanno detto no beh insomma perché gli dicevo beh la profondità no beh insomma e mi hanno fatto notare una cosa che non avevo mai notato perché noi occidentali siamo grezzi in un modo indegno quando vediamo cose fatte da altri di altre civiltà cioè che all'interno di un'unica stampa giapponese loro non hanno la prospettiva ma hanno un'altra cosa cioè che ci sono degli oggetti che sono visti da sotto degli oggetti che sono visti dalla stessa altezza e degli oggetti che sono visti dall'alto all'interno della stessa ok qui c'è una nave che vedi da sotto poi ci sono non so della gente che passa che invece sono la tua altezza e poi ci sono delle montagne viste dall'alto ok adesso voi pensate uno sguardo quello del pubblico no quello che guarda questa roba e tu simultaneamente guardi da sotto la stessa altezza e da sopra cioè l'unico che guarda così è Dio e tu dici ma io però ho un trucco geometrico per fare ma va a cagare cioè perché ecco è proprio costruito no sulla sulla cosa che poi quando te la dicono dico beh certo perché uno dovrebbe vedere che poi è Picasso i due occhi del cavallo da una parte no però insomma loro sono arrivati molto prima che che se ha un senso dipingere disegnare qualcosa è che tu a quel punto lì vedi come Dio non come te perché ti dipingo a fare guardatelo il paesaggio ma se ti faccio il paesaggio che guardi come Dio in più dato che il mondo deve essere nella bellezza pulito tolgo anche le ombre vedete che lì uno incomincia è come il tiro con l'arco cioè incomincia non si ferma più perché queste sono due regole ma anche lì ce ne sono molte altre che compongono poi questo tipo di bellezza ma queste cose ve le dicevo solo per la passione di scoprire insieme alcune cose di quel tipo di arte ma cosa c'entra con i libri c'entra perché in tutti i libri che io ho letto e ancora oggi leggo un tratto della mia esperienza è che sono tutte vedute del Monte Fuji cioè sono sempre delle scene in cui c'è un elemento sempre presente alle volte enorme alle volte piccole e l'elemento sempre presente questo mi era fin chiaro era molto chiaro fin da bambino l'elemento sempre presente il Monte Fuji di tutti i libri che leggete e voi stessi io vedevo me in tutti i libri che leggevo in uno piccolissimo cioè a pagina 42 dicevo una frase dicevo cazzo questo sono io quando ho letto non so Narciso Boccadoro a 15 anni io ero proprio lui proprio il personaggio di Narciso ero lui cioè mi chiedevo come mai quest'uomo mi conoscesse perché esattamente proprio sbagliavo ma insomma comunque e lì quando il Fuji lo fa enorme però in Madame Bovary io non ci sono eppure c'è almeno una pagina in cui ho detto ma guarda quella cosa lì che io sento sempre ma non so nominare quando lo devo dire ma sai che ho sentito tac quell'uomo mi ha trovato il nome pagina 46 va bene Fuji piccolino però non credo di aver mai letto forse ma finito un libro in cui io non c'ero cioè quell'uomo quella donna niente sapevano qualcosa di me e la presenza se volete un po' quasi divina del Monte Fuji è un po' quella roba lì perché tu per te stesso quando sei soprattutto un ragazzino tu sei una divinità i bambini hanno questo equivoco per cui tu ti percepisci come una divinità è proprio esattamente come il grande Monte Fuji in queste cose e ancora oggi per me è così tutto sommato alla fine ci sono molti libri che non finisco evidentemente però se li finisco per qualche ragione insomma a un certo punto c'è il Monte Fuji ma perfino la saggistica se io leggo libri sulla guerra dell'oppio in Cina sulla bioenergetica a un certo punto parlano di me cosa che allora da ragazzino non facevano gli altri gli altri non parlavano di me sì mio papà mia mamma più o meno però non era un argomento per gli altri non si occupavano di me nessuno si fermava a dirmi quella cosa lì che tu hai tutti i pomeriggi quando vedi andare giù la luce si chiama cioè non c'era qualcuno che mi che mi conosceva là fuori apparentemente sì ogni tanto dei lampi da più grande poi da più grande si è tutto sciolto ma c'è quel pezzo lì che che o sei uno nato con la felicità regalata e allora va bene ma se non lo sei mettiamo che sei anche un po' intelligente sei fregato cioè tu fatichi e insomma per cui i libri i libri mi liberavano anche da questo incubo che che io esistevo io lo sapevo ma ma poi non non c'era mai il Montefugi nelle cose che io incontravo fuori cioè non e invece aprivo ste robe e con un po' di pazienza giravo 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 e quando non erano proprio il mio ritratto beh insomma comunque a un certo punto parlavano di me quindi riassumendo effettivamente io devo molta libertà al gesto del leggere i libri soprattutto in un pezzo della mia vita e me lo ricordo cioè devo riassumerlo in questi tre tratti che non ho dimenticato cioè la possibilità e la capacità di chiudermi in un cubo in cui nessuno poteva entrare dove mi sentivo libero solo aprendo un libro questa cosa fantastica di guardare il mondo da vicino forse un po' toccarlo annusarlo vederlo nudo poi perché gli scrittori lo mettono nudo al mondo non è che adesso io vi vedo tutti i vestiti ma se io scrivo un libro di voi voi tutti nudi siete cioè io vedo proprio un po' di panza laggiù cioè vi vedo vi vedo i libri i libri niente sono così li vedi libri belli li vedi e me la ricordo questa cosa che mi era dato ciò che nello stato di prigionia che mi dava la vita normale non mi era dato e poi questa roba di che c'ero io adesso io posso anche avere un po' troppo il mito di me stesso ok però credo che sia una cosa un po' di tutti che nei libri cerchiamo quella frase quella scena quel personaggio quella storia che è la nostra e sono quelli poi i libri che amiamo tanto questo mi ha dato molta libertà potete immaginare quando poi ho incominciato a scriverli i libri pazzesco perché sai finché li leggi ma non so se potrei trovare un sistema più preciso per spiegare cos'è l'elettrizzante sensazione di scrivere libri se non questo cioè tutto quello che leggere libri ti dava a un certo punto tu fai un gesto per cui diventa tridimensionale non so come dire cioè sono sempre le stesse cose però a questo punto io potevo scegliere cioè sono ero io Dio cioè il Montefugi è il posto in cui accade tutti i miei libri sono solo Montefugi ok un delirio di onnipotenza mi scelgo ma che una ragazza sei ragazza vergine non importa pezzi di mondo enormi no e poi posso decidere io prendo la pillola quando voglio io e poi a un certo punto mi viene da dire che oh non dormono sono svegli e lo posso fare cioè è una e questo tipo di libertà è talmente vertiginoso che naturalmente ti risucchia cioè scrivere è fondamentalmente un'esperienza tossica perché quando tu sai leggere è già abbastanza tossico però a un certo punto si smette no cioè ti chiamano a pranzo vai e quando scrivi sei a pranzo non vai continui a scrivere perché perché proprio e devo dire che alla lunga alla lunga ti risucchia anche via dalla vita abbastanza cioè proprio quando tu hai questa possibilità di stare perché dovresti uscire dal letto di queste ragazze vergini di Cavabata perché in fondo e lo fai insomma un po' distratto così per cui quello che fino a quando non ho scritto libri è stato comunque una medicina un linimento e chiaramente è diventato dopo invece una specie di stupefacente insomma lo è per tutti quelli che scrivono e non è che soprattutto una stupefacente che tu ti fai di questa roba e la gente ti è grata ti paga viene qua aspetta due ore in mezzo di ritardo dal treno no cioè come fai a resistere una roba del genere è pazzesco infatti la storia di quelli che scrivono è un lento lentissimo e molto paziente tentativo di prendere le misure con questa bomba che ti è arrivata addosso che è un percorso lungo paradossalmente alla fine alla fine il tuo problema è liberarti dai libri non liberarti né i libri quando li leggi questo problema non ce l'hai mai ma quando cominci a scriverli a un certo punto pensi che il problema è proprio quello di liberarti di loro con amore ma insomma in qualche modo di liberarti di loro e questa è un'esperienza che anche questa l'ho conosciuta molto bene ma sempre di libertà d'altra parte questa esperienza tossica è quella che mi ha portato qui stasera una delle tante cose che ha prodotto è quella di essere qui nonostante il ritardo del treno e quindi ti dà moltissimo quindi hai un bel volertene liberare ma è pur sempre anche bello averla addosso e poter passare orette come quella che abbiamo passato insieme questa sera grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti